Ancora ben trovati dalla redazione di Florence Multimedia, in studio Agnese Fedeli. Il traffico è il momento regolare su strade e autostrade della Toscana. Prudenza per pioggia sull'intero tracciato della Firenze e Pisa Livorno. Raccomandiamo di moderare la velocità. Per le statali segnaliamo sul raccordo Siena-Firenze scambio di carreggiata per cantieri tra Firenze-Certosa e San Casciano Nord in direzione di Siena. Ci spostiamo sulla SCC Grosseto-Fano e riduzione di carreggiata per lavori tra Alberoro e Montagnano in direzione Lucignano. Voltiamo pagina per il traffico aereo e il volo Firenze-Lione delle 17.25 al momento segnalato in partenza e in ritardo alle 18.30. Il volo Pisa-Catania delle 18.45 alle 19.07. Muoversi in Toscana Info è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio! Grazie! Grazie a tutti!